Già sta, già sta a pigliare, già sta a pigliare, già sta a pigliare la pasticca, eh? Un saluto alla telecamera. E' molto bello. Mamma mia, qua ci sta anche il servizio audio-video, bello, bello. Grandi, grandi. Grandi, mamma mia, oggi servizio audio e video. Presidente, manchi solo tu, azzo. Ma no, è che? E' chiaro, no? Sì. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. Grazie a tutti.